ore 17 del giorno 27 febbraio 2023 guardate la meraviglia delle nubi basse e un po di neve spizzolata su quei cocuzzoli della montagna qui sono i piedi del pizzo dei tre signori monte benigni ma sono qui piazza brembana ecco se non ci credete il bus che va poi a bergamo parte tra cinque minuti sono qua un bus tutto per me ad assimilare questo stupendo spettacolo delle montagne che io ho intorno sono qui in piazza brembana dove l'armonia del mio essere continua a vivere tra questi luoghi della val brembana anzi alta val brembana provincia di bergamo tra poco parto col bus e mi fermo anche san giovanni bianco dove c'è la strada che va in valtaleggio a vedesetta ma oggi non ho finito da vivere perché mio percorso è così lungo nel cammino ogni giorno dieci ore non stop fino alla sera sono contento di essere qui in piazza brembana da mirare queste bellissime montagne ecco l'altro bus che arriva è un via vai continuo di bus perché è una comodità che non si può farne a meno di non viaggiare di non viaggiare in questa bellissima valle vado anche con bello vado anche una montagna denominata la valle del drago sì sono qua vi saluto ascoltatori di youtube venite con me in val brembana in provincia di bergamo aldo